Il cantiere è fermo da tre mesi ad Arquata per un intoppo dovuto alle talpe, non si sa quando ripartiranno. Anche questa è una notizia che è falsa, il cantiere del Tazzovalico non è fermo, stanno lavorando su tante cose, c'è stato un intoppo tecnologico, cioè dovuto a una franza, insomma tecnologico diciamo, sì, un problema di cantiere, chiamiamolo così, e su questo stanno lavorando per risolvere, ma non è vero che il cantiere del Tazzovalico è fermo. Il cantiere delle gallerie ad Arquata è fermo. E' un altro modo di dire, i cantieri che sono contemporanei mi sembra siano otto o dieci, giusto? Quindi non possiamo dire alla gente che il Tazzovalico è fermo. No, no, non è dentro la galleria Terquata. Sì, però bisogna dirlo bene, se no... Allora, il cantiere del Tazzovalico va avanti, punto. C'è uno degli otto o nove cantieri che è, diciamo, ha un problema tecnico, che stanno affrontando e mi sembra non sia neanche nel re-determining step, cioè vuol dire nella parte che determina i tempi, nel senso che potrebbe essere compensato agli altri cantieri. Però dovete chiederlo a loro perché non è il mio lavoro.